Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Allora, prima di cominciare a parlare del canale YouTube di oggi, vi parlo di uno YouTuber di cui vi ho già parlato in passato, che è Matthew Santoro, che è stato uno degli YouTuber che mi hanno ispirato a diventare, appunto, YouTuber, e che recentissimamente, proprio un paio di giorni fa, il suo canale ha raggiunto il milione di iscritti. E vi segnalo innanzitutto lo splendido vlog nel quale ha raggiunto il milione di iscritti, e ha... prima di tutto per fargli i grandissimi complimenti per questo traguardo, e perché ha avuto una reazione veramente spontanea che è una cosa che non mi aspettavo, o comunque non mi aspetterei da uno YouTuber che cerca di fare questo come lavoro, perché lui è una persona molto umile, è una persona che è partita dal basso, è una persona che sta facendo questo lavoro dello YouTuber per passione, e guardate il suo vlog, perché merita tantissimo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al suo canale, perché è molto bello. Detto questo, canale YouTube di oggi. Parliamo di sperimentazione, parliamo di elettronica, parliamo di tecnologia... dei tempi un po' andati. Quelle cose che si facevano... quelle cose io stesso facevo in passato, quando si costruiva per esempio la famosa radio a galena. Io sono un radioamatore mancato, sono un appassionato di comunicazioni radio, sono un SWL per chissà cosa significa, e in passato mi sono cimentato nella costruzione delle radio a galena, delle radio a cristalli, delle cosiddette radio che funzionano basandosi solo sull'energia delle onde radio. Sono le radio materialmente dei ricevitori radio che non hanno un circuito di alimentazione. E uno dei problemi con cui ci siamo andati a sbattere tutti quanti noi che abbiamo fatto questo esperimento è quello di un componente elettronico specifico che si chiama condensatore variabile, che è una cosa che era nelle vecchissime radio, una cosa abbastanza difficile da reperire, e adesso chi vuole cimentarsi nel costruire una radio a galena deve andare a procurarsi un condensatore variabile, deve veramente andare a trovare qualche vecchia radio in un mercatino dell'usato e tirar fuori quel componente. Ma invece la situazione che noi andiamo a vedere è di un personaggio molto simpatico, un professore di elettronica che ha aperto questo canale, che si chiama rimstar.org, e in questo canale tra le altre cose ci sono tre video che vi segnalano il doobly-doo che riguardano come costruire una radio a galena, una radio a cristallo, con delle soluzioni tecniche geniali e una di quelle che ho trovato la più geniale di tutte, un rotolo di cartone per la carta da cucina, un pezzo di carta e un paio di fogli di alluminio. Guardate il primo filmato sul doobly-doo, che è appunto come costruire una radio a cristallo, è molto interessante ed è un interessantissimo esperimento da provarci, da provare a farlo a casa. Sono veramente pochissimi componenti, un paio di bobine con del filo di rame isolato, un diodo al germanio, quattro cose veramente. E poi il secondo video che vi segnalo sul doobly-doo riguarda potenziare un po' questa radio con un piccolo amplificatore, quindi come costruire un amplificatore per la radio a cristalli. Terzo video sul doobly-doo, andiamo a scoprire un componente che si chiama oscillatore automatico e andiamo a costruire una trasmittente AM veramente con due componenti, con delle pile, questo oscillatore e un lettore mp3, alla scoperta di come funziona l'oscillatore AM. È un canale molto bello, vi consiglio di iscrivervi, ci sono dei video molto interessanti, ho trovato soprattutto molto interessante tutta la sezione di video che spiega come costruire i condensatori, quindi sul doobly-doo trovate tutti i riferimenti, questo è rimstar.org. L'argomento del giorno riguarda, invece, appunto questi video molto interessanti che trovo su YouTube, i canali più interessanti che vedo su YouTube. In generale, io all'inizio, quando ho deciso di promuovere il mio blog, di creare il vlog, di diventare uno youtuber, ho pensato a quali potessero essere i contenuti che avevo intenzione di fare, dove volevo buttarmi, e la cosa che ho pensato di fare all'inizio è proprio questa, di fare questi vlog, di innanzitutto parlare un po' di argomenti in generale, parlare, specificare magari il mio punto di vista, come ho sempre fatto sul vlog, eppure trovo che ci sono dei canali, per così dire, monotematici o comunque che hanno un tema portante. Matthew Santoro, d'altronde, è un canale che è basato sulle curiosità presentate in maniera anche un pochettino comica e comunque ben fatte, e ci sono canali come Rimstar che fa appunto questo approfondimento tecnologico, e lui dice sulla sua presentazione un canale che vi creerà una dipendenza dall'elettronica, dalla scienza, dall'energia solare, e un po' tutta la visione di questi canali, sta cercando, sta in qualche modo cambiando anche la mia idea che mi sono fatto sui canali YouTube, e quindi voglio vedere un po' dove arriveremo nel futuro, dove arriverà nel futuro anche la scena italiana, perché comincio a vedere qualche cosa di qualità anche nei vlog italiani, è una cosa che comincia a tirarsi fuori, cominciano a venire youtuber che fanno dei vlog molto interessanti, e io tra poco finirò di parlare dei canali stranieri e comincerò a parlare dei canali italiani, degli youtuber italiani, cercherò di avere un contatto con gli youtuber italiani, cerchiamo di fare un po' delle collaborazioni, vediamo dove si muove, se si fa muovere, se si può muovere la community YouTube Italia. Sappiamo ci sono grandi youtuber in Italia, per carità, da Daniele Dasemmatter, agli Utopi e via discorrendo, c'è una cosa che noto che molti canali YouTube sono soprattutto dedicati al gaming, al gameplay, a situazioni del genere. Io faccio il tecnico informatico, il che implica che dopo un'intera giornata passata a sbattere la testa contro i computer dei clienti non ho tutta questa gran voglia di mettermi a giocare, quindi io non sono un videogiocatore, io non ho una console a casa, ma a malapena uso il solitario delle carte sul telefonino, proprio veramente quando finisco il mio orario di lavoro io stacco dalla tecnologia, ho l'ebook, d'accordo, questo, ma è il massimo della tecnologia che mi consento, quindi. E io a questo punto vi chiedo, in realtà appunto, basandosi su questo ragionamento, voi siete dipendenti dalla tecnologia, lavorate con i computer e poi vi rilassate con i computer, siete videogiocatori, avete anche voi un ebook, usate spesso il tablet, usate... non riuscite a restare completamente disconnessi tutto il giorno. Ditemi un po', io... la mia posizione è questa, io quando finisco l'orario di lavoro preferisco disconnettermi, rendere la connessione il minimo... complimenti, rendere la connessione il minimo indispensabile, soprattutto quando vado in vacanza proprio riesco a uscire dalla rete. E voi? Vivete connessi 24 ore su 24, avete sempre gli ultimi videogiochi, avete sempre le ultime novità... è anche passato col rosso, vabbè, guarda, non faccio commenti. Avete sempre le ultime novità? Avete bisogno proprio di stare sempre connessi? Fatemi un po' sapere, mettetemi un commento e soprattutto se vi è piaciuto il vlog, fatemi sapere se vi è piaciuto, fate pollice in alto, condividete con gli amici, fatemi sapere se vi è piaciuto, mandate un commento, come sempre spazio dei commenti, oppure su Twitter o memi, hashtag DDVOTR. Grazie a tutti, io ormai sto arrivando verso l'ultimo cliente, quindi per il momento concludo, ciao a tutti, grazie e ci vediamo domenica prossima.